Chi invece critica il governo su tutti i fronti è il Movimento 5 Stelle, che stigmatizza le divisioni interne al PD e attacca. Queste riforme sono soltanto dei blef, non porteranno alcun risparmio tangibile. Il PD è a pezzi sulla riforma del lavoro. Cittadini, otto volte si potrà ricontrattare un contratto determinato. I risparmi sulle province e sul Senato non ci saranno, lo dice anche la Corte dei Conti. Attenzione cittadini, gli unici a smascherare questi blef siamo noi del Movimento 5 Stelle, non vi fidate degli altri. Grazie.